Le raffiche di vento di queste ultime ore particolarmente violente e fredde ci portano dritti dritti verso l'inverno. Il maltempo che ha interessato anche la provincia di Arezzo già da venerdì 20 novembre ha causato disagi e danni. Numerosi gli interventi nel pomeriggio da parte dei carabinieri, vigili del fuoco e polizie locali. A Terranova a Bracciolini un albero ha colpito un'auto con il conducente all'interno causando la rottura del parabrezza nessuna conseguenza per fortuna per l'automobilista. In località Policciano a Castelfranco Piendiscò un albero si è invece abbattuto sui cavi di una linea elettrica. Sul posto la polizia municipale ha provveduto a mettere in sicurezza l'area fino alla risoluzione della problematica da parte dei tecnici della compagnia elettrica. Due gli interventi a Bibiena per altrettanti alberi che erano caduti sulla sede stradale, uno nel centro della cittadina valdarnese, l'altro lungo la regionale 71 in località Partina. Intanto dal sito arezzometeo.com arrivano anche le prime immagini del passo Fangacci innevato. Sarà dunque un fine settimana particolarmente freddo con temperature minime in ulteriore calo e possibili gelate.